buongiorno ragazzi e ragazze allora questi sono i miei esperimenti al diamantino che ho fatto sabato in resina ovviamente sono senza stampi perché questi sono vecchi l'avete già visti mi sposto perché così il diamantino la coda di sirena ovviamente lo fa tutte in trasparenza per vedere come venivano a questo è il ciondolino che ho chiamato diamantino ma un ciondolo ovviamente qua mi sono sbagliata io perché non ho visto dove arrivava quindi mi sono sbagliata poi vi faccio vedere lo stampo questo è un altro ciondolino quadrato non so se vedete questo questo qua ovviamente dentro c'è un sacco di bollicine però è grazioso lo stesso le goccette fatte così già viste e riviste quale resi non fa asciugata quindi poi si deve buttare questa sono tre gocce quindi lo fa tutte e segno di superman segno il simbolo questo qua rotondo ovviamente con le bolle perché c'era una prova quindi è uscito con le bolle sono uscite e questi sono i classici classici cameo fatto così questo lo faccio di dopo alla fine questo qua il cuoricino tutte prove quindi abbiate pietà dopo voglio provare a fare questi tutti che vi faccio vedere questo è un altro diamantino fatta a goccia qua si deve tagliare limare e ovviamente è uscita una mega bollicina non so se si vede forse così si vede anche alla S di superman ecco se lo metto così vedete le bolle vedete qua un attimo con quella fotocamera un casino qua sopra e qua guardate qua mi faccio gli stampi allora uno è questo questo è il diamantino che ovviamente dov'è eccolo qua un attimo e questo è lo stampo vedete l'ho già tirati fuori che sono difficoltosi questo stampo del signo di superman l'appassimata lo faccio di un altro colore e questi qua sono dei dei ciondolini che può fatto vedere prima ma hanno una difficoltà a levarli ci vuole una forza assurda e questi sono tutti gli le creazioni resina diciamo no diciamo sono creazioni resina questo si deve buttare piccari se non si è asciugata bene ecco qua ammocchiati allora il mio preferito ovviamente è il diamante grande che anche se è macchiato fa questo effetto qua non so se vedete uno è questo l'altra ovviamente la coda di sirena che anche tasparante mi piace lo stesso ovviamente la s di superman anche se c'è questa maica bolliciona e le gocce dov'è l'altra ma eccola qua e questa è la goccia le mie preferite eccole qua iscrivetevi al canale lasciatemi tanti like e commentate ditemi qual è la vostra preferita ciao ciao